Video messaggio del Papa per il lancio di un evento mondiale a favore di un nuovo patto educativo per la cura del creato. L'appuntamento si terrà il 14 maggio 2020 a Roma ed è rivolto a tutte le personalità pubbliche già impegnate nel settore dell'educazione dei giovani. L'obiettivo ha precisato è formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Francesco nel filmato di oggi ha citato il documento sulla fratellanza umana firmato con il grande imam di Al-Azhar all'indomani della prima riunione del Comitato Superiore per attuarne gli obiettivi avvenuta a Casa Santa Marta. L'organismo chiederà all'ONU l'istituzione di una giornata mondiale della fratellanza umana. Il Papa e i Vescovi ordinati nell'ultimo anno fatevi vicini dedicate più tempo alle persone che alla scrivania non temete il contatto con la realtà e poi aggiunto non circondatevi di portaborse e di yes man cioè di gente che dice sempre di sì. Staccarsi dalle radici è un suicidio e l'avvertimento del Santo Padre durante l'udienza agli agostiniani scalzi riuniti per il capitolo generale. La tradizione è garanzia per il futuro non un museo avvertito Francesco riflettendo sul carisma dell'ordine e sulla contemporaneità. Attraverso un videomessaggio il Papa ha lanciato un evento per la cura del creato sul tema ricostruire il patto educativo globale. Appuntamento il 14 maggio 2020 a Roma per affrontare una sfida sempre più urgente a partire dall'educazione. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contraposizione c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni campamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Dopo le ripetute prese di posizione sull'argomento il Papa ha spiegato che adesso bisogna passare all'azione coinvolgendo tutte le categorie sociali. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Per il Papa serve la consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso, servono quindi nuovi modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma, per promuovere insieme e attivare questo patto educativo. L'obiettivo è di attivare processi di trasformazione e per questo, aggiunto il Papa, tutti devono essere protagonisti. Insieme a voi faccio appello a tutte le personabilità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel dedicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. A Casa Santa Marta la prima riunione operativa del Comitato Superiore istituito ad agosto per attuare gli obiettivi del documento sulla fratellanza umana firmato dal Papa con il grande imam di Al-Azhar il 4 febbraio scorso da Abu Dhabi. L'incontro alla presenza di Francesco è avvenuto ieri nel giorno della memoria degli attentati alle Torri Gemelle, una scelta per sottolineare la volontà di costruire vita e fratellanza dove altri hanno seminato morte e distruzione. Il Papa ha rivolto parole di gratitudine e di incoraggiamento ai membri dell'organismo appartenenti a diverse religioni. In particolare ha auspicato che diventino artigiani della fraternità, dando impulso ad una nuova politica non solo della mano tesa ma anche del cuore aperto. La riunione è servita ad individuare alcuni passi concreti che segnano l'avvio delle attività del Comitato. In cima alla lista c'è una proposta che sarà avanzata alle Nazioni Unite, quella di proclamare una giornata della fratellanza umana in una data da definire fra il 3 e il 5 febbraio di ogni anno. Inoltre è stato deciso che si proporrà ad alcuni rappresentanti di altre religioni di far parte dell'organismo. Al termine dell'incontro una preghiera, ciascuno secondo la propria fede, per le vittime dell'11 settembre e di ogni atto di terrorismo. Il Papa ha ricevuto in udienza i Vescovi ordinati nell'ultimo anno che partecipano al corso di formazione promosso dalla Congregazione per i Vescovi e dalla Congregazione per le Chiese Orientali. Nel suo intervento Francesco ha detto che la vicinanza del Vescovo non è retorica e non è fatta di proclami autoreferenziali, bensì di disponibilità reale. Quindi farsi vicini, stare a contatto con le persone, dedicare tempo a loro più che alla scrivania, non temere il contatto con la realtà da conoscere e abbracciare. Poi, l'altra cosa del Samaritano, fasciare le ferite, farsi carico, prendersi cura. Per il Papa servono Vescovi capaci di sentire il battito delle loro comunità e dei loro sacerdoti anche a distanza. Pastori che non si accontentano di presenze formali, di incontri di tabella o di dialoghi di circostanza. A me viene in mente pastori così autocurati che sembrano l'acqua destilata che non ha sapore a nulla. Apostoli dell'ascolto che sanno prestare orecchio anche a quanto non è gradevole sentire. Francesco ha chiesto inoltre di scegliere al proprio fianco le persone giuste. Per favore non circondatevi di portaborse e di yes man, i preti arrampicatori che cercano sempre. Per favore, fuori. Quindi il Papa ha dato ai Vescovi qualche consiglio di natura pratica. In particolare vorrei incoraggiare visiti pastorali regolari, visitare frequentemente per incontrare la gente e i pastori, visitare sull'esempio della Madonna che non perse tempo e si alzò per andare in fretta dalla cugina. Al termine del suo intervento Francesco ha dedicato un pensiero ai sacerdoti. Infine vi chiedo ancora di riservare la vicinanza più grande ai vostri sacerdoti. Il sacerdote è il prossimo più prossimo del Vescovo, amare il prossimo più prossimo. Vi prego di abbracciare, ringraziare e rincuorare a nome mio. In sala Clementina, l'udienza del Papa, gli agostiniani scalzi, circa 200, che partecipano al capitolo generale dell'ordine. La riflessione di Francesco si è soffermata sul loro carisma, sull'attualità e sull'importanza delle radici e delle tradizioni. Questo, ha precisato il Papa, serve per parlare alle donne e agli uomini di oggi, la tradizione della vera testimonianza cristiana che è un po' controcorrente e che richiama l'umiltà e la carità. Francesco ha parlato dell'anno del carisma, della tradizione religiosa iniziata da Sant'Agostino e del voto di umiltà degli agostiniani. Il Pontefice quindi ha riflettuto sulla missione a Gentes, per la quale gli agostiniani scalzi si sono sempre fatti trovare pronti a partire. Anche io mi unisco a voi con commozione nel fare memoria dei missionari agostiniani che hanno dato la vita per il Vangelo in diverse parti del mondo e vedo con piacere che fate tesoro di queste testimonianze del passato per rinnovare la vostra disponibilità alla missione oggi, nelle forme che il Concilio Vaticano II e le sfide attuali ci chiedono. Nella Basilica di San Giovanni in Laterano quattro appuntamenti sanciranno l'avvio del nuovo anno pastorale. L'obiettivo del cardinale vicario Angelo De Donatis è quello di istituire in ogni parrocchia equip per l'ascolto della città. In particolare rifletteremo sull'identità, i compiti e lo stile di questi gruppi, ha annunciato il porporato, il quale ha precisato che si tratta di piccoli team di persone con il mandato di prendersi cura del cammino di tutti, di custodire la direzione comune e di animare concretamente le diverse iniziative. Il cardinale ha aggiunto che durante gli incontri l'attenzione sarà dedicata alle storie di vita di giovani, famiglie e poveri. Tre ambiti, uno per ciascuna serata, il 18, il 19 e il 20 settembre, alla presenza di operatori impegnati nelle diverse realtà di appartenenza. Si parte lunedì prossimo, 16 settembre, sempre nella fascia serale, con un evento che verrà trasmesso in diretta su Telepace, la riflessione sarà incentrata su cosa significhi scendere in mezzo al popolo per mettersi in ascolto del grido della città, in particolare di quello delle giovani generazioni, di coloro i quali vivono in condizioni di bisogno degli ammalati e dei nuclei familiari in difficoltà. Una strategia che si basa sull'apertura delle parrocchie, come ha precisato lo stesso cardinale durante le celebrazioni a margine del recente pellegrinaggio della diocesi di Roma a Lourdes. Quante volte anche le nostre parrocchie si sono arroccate su false sicurezze di benessere pastorale sul si è sempre fatto così. Quante volte ci siamo chiusi per pochi eletti, credendo di avere tutto ed evitando di percorrere le strade della vita quotidiana. I titoli dell'osservatore romano di venerdì 13 settembre. Per ricostruire il patto educativo globale, Papa Francesco convoca un grande incontro il 14 maggio 2020. Nessuno prende addio a pretesto per alzare muri a un gruppo di vescovi di recente ordinazione. Udienza del pontefice al presidente della Repubblica di Serbia. Forti critiche al progetto di Netanyahu, il premier aveva annunciato l'annessione della Cis Giordania. La Corte Suprema in aiuto di Trump, giudicata legittima la normativa introdotta dal presidente in tema di richiedenti asilo.